no se il disco dici te no se il discord no dai ma per questo li devo rompere aspetta ero io che ho sbagliato a mettere un ingramaggio fottuto di merda capito non è che non funzionava il grande serviva per il sacco rendo dirlo dai no cazzo o sta giù miserabile dunque questo me lo devo riprendere ragazzo riattivare l'orologio qui già c'è questo mi servito soltanto per far scendere questa adesso tutti di pezzi di merda vaffanculo abbiamo preso la scheda elettronica cioè io ho capito tre ore tico tre ore lo cazzo stava sta cosa non dovevo trovare altri era sempre quello avrei affanculo va gioca per cazzo qua va e altro che va a rubà per cazzo si esce ma velocemente da dove andarmene sto con un centimetro di secondo me c'è avrò il 2% di vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 No, è la mamma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.